Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo 1. La rimonta anticiclonica subtropicale, attesa per i primi giorni della prossima settimana, garantirà ben tempo e mitezza, sebbene non in modo incontrastato. Disturbi sono infatti attesi sulle regioni più occidentali della penisola e potrebbero aversi piogge specie al nord-ovest, che risulterà particolarmente interessato dal richiamo dell'area umida dai quadranti meridionali. L'afflusso di correnti dal sud favorirà un periodo più mite rispetto al clima invernale dell'ultimo periodo ed anche sull'Europa centro-orientale osserveremo un generale adocimento termico. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per lunedì 21 novembre. Cielo irregolarmente nuvoloso con nuvolosità più compatta nelle zone interne e salento, con locali brevi piogge ma con schiarite da pomeriggio sera. Nuvolosità più blanda sulle coste con locali ampie schiarite. Venti ancora dei quadranti sud orientali e temperature stazionarie, con ponte oltre i 20 gradi nelle zone più soleggiate. Oggi, per la consueta rubrica La foto del giorno, ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli per la foto che ritrae il porto di San Andrea, a Marina di Melendogno, in provincia di Lecce. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi e sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappola, oppure alle mail che vedete in sovrappressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. 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 Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.